benvenuti su quake champions la beta si da un po che state vedendo solo beta praticamente sul canale perché stanno uscendo tutte beta che a me interessano da morire e questo gioco mi porta indietro ad un periodo della mia vita completamente diverso quando giocavo a quake 3 arena e a quake live non so se qualcuno poi ha proseguito con quake live e quindi vorrei fare un tipo di video aiuto un po diverso infatti non sono abituato vorrei fare un video senza il minimo taglio magari soltanto i caricamenti io vorrei farvi vedere un'intera partita un intero deathmatch a quake champions perché è così che va fatto vedere quake champions nessun montaggio nessuna musica nessun nessuna battuta sagace buffa nessuno zoom niente di niente una partita di fila prima di tutto vi faccio vedere un po come è cambiato quake nel senso che adesso ci sono i champions e sta mania dei moba mortacci vostra vi fulminassero i cani che devono mettere i campioni come un moba come league of legend o simil moba come overwatch per certi aspetti e quindi siccome quake champions sarà un free to play che ti compri se non i campioni visora anarchie e tutti questi campioni che si possono vedere mi sembra forse non adesso non in questa modalità perché questo è il total score ecco forse qui vedi eccoli qua sono tutti i campioni guarda che bellini capelli e io non ne ho ancora sbloccato uno si possono sbloccare con questi punti qua che vedete in alto i punti favore ne ho un po perché ho giocato un pochino a quake ma chi se ne frega ognuno ha un po più di vite un po più veloce insomma cambiano alcune statistiche e c'è anche abbastanza customizzazione devo dire ci sono i set completi oppure soltanto l'elmo il torso le gambe e anche le armi hanno le loro skin le loro le loro credo modalità anche dei cambiamenti ci sono che vi dirò poi giocando non ho già più fiato io non sono buono a far questo tipo di video però io voglio partire con un deathmatch farvelo vedere tutto dall'inizio alla fine e non rompere più i coglioni ok ho trovato una partita e mi ha buttato subito in mezzo alla mischia è perfetto grazie mille non so quanto sarà il fattore intrattenimento in questo video qui perché appunto non tagliando niente bisognerà parlare il meno possibile perché se no l'armatura me la prendo io grazie mille c'è qualcuno che mi sparava dietro con una railgun poco capace ringraziando il dio e iniziamo con la railgun l'ho preso ho fatto un hit marker con la railgun che triste però però quindi perdonatemi se non sono di intrattenimento in questo momento l'ho preso in pieno ma non ce l'ho fatta a ucciderlo scusatemi sono solo di intrattenimento guardatevi la partita giuro che sto zitto il più possibile per cercare di di avere tanto ah tra l'altro non solo hanno statistiche diversi personaggi ma hanno anche un'abilità il mio in particolare ha una granata teletrasporto praticamente la c tua niente quando la tiri puoi o tirarle basta e cioè o tirarle basta e farle esplodere il quad damage veramente kukaku kukaku o la tiri e sapiccica ed esplode oppure quando la tiri puoi ripremere il tasto f per teletrasportarti cc e questo però lo prendo io pezzettino di stronzo hai visto come si fa è così anche si muore all'istante molta fatica devo riprenderla a mano perché ero veramente bravo posso dirlo per una volta io gioco sempre giochi a cui non ho mai giocato nel canale e quindi la gente un pochino mi insulta perché dice ma come merda giochi ed è verissimo stronzi ed è molto molto vera questa cosa qui però lo faccio proprio perché sono giochi che non ho mai giocato quake invece posso dire di essere stato un bravo giocatore di quake grazie grazie e niente mi sparano da dietro ah te l'ho rubata sei contento adesso mi teletrasporto da te e sono morto perché avevo troppo poca vita allora com'è il feeling parlo per quelli appunto che aspettavano quake come se fosse il secondo avvento di gesù e io sono uno tra quelli guarda che non avevo lanciarazzi che stronzo che sono il feeling è ottimo è ottimo quasi paro paro a quake 3 forse c'è leggerissimamente più tempo di morte nel senso sono tutti lì sono tutti i tiro la granata ma dai mi esploso prima sono hanno tutti molta più vita c'è le sparatori come vedete durano quel quarto d'ora 20 minuti in più rispetto ok vediamo se forse ah ho finito le munizioni niente hanno tutti molta più vita del normale perca troia dai e niente tigranato va bene che fatica che succede ah sono morto durante il salto niente sembrano le sparatorie durare veramente 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 di più del normale a volte capita che magari non hai mira e quindi vedi come due stronzi così scusatemi mi incespico sono sono troppo abituato a montare video che so quando stare zitto e quando parlare quindi ogni tanto rientro in modalità registrazione video normali e sto zitto perché so che non stavo succedendo niente no tu ok infatti stavo già piangendo che ma la railgun non l'ho presa? aveva la railgun per terra quello lì ok no dai quanta vita avevi fitta porca troia sono primo no no non lo dovevo vedere non lo dovevo vedere perché adesso mi emoziona infatti mi hanno subito preso da dietro come vedete le sparatorie mortacci vostra quanto devono durare ste cazzo di sparatorie no volevo arrivarle con la motosega netuauci e mi dicevo questo gioco mi riporta indietro veramente di tanto 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 tempo quando andavo alle medie forse perché non l'ho giocato quando è uscito ovviamente oh l'armatura che culo non l'ho giocato quando è uscito l'ho giocato negli anni dopo con la connessione di all'app dove dovevo spendevo soldi ogni volta che mi connettevo e quindi dovevo giocare qualche partita no dai no dai t'ho colpito in piedi non ti ho cos'è ah era la sua abilità probabilmente ho avuto paura per un attimo e quindi spendevo soldi ogni volta che mi connettevo e questo lo dico ovviamente ai più giovani non a quelli che hanno la mia età la granata ti ha smacellato non riesco a finire un discorso con queste partite al cardiopalma e quindi non avevo tanto tante possibilità di allenarmi perché appunto giocavo a quello e a dark age of camelot anche lì purtroppo ci giocavo ricevuto con giochi per il mio computer tra l'altro e ci giocavo tipo un'oretta al giorno perché poi arrivava la bolletta era il periodo in cui le truffe erano tramite bolletta sei morto sei morto in una buona mo merda la railgun lì vado via vado via merda si vado via dovrebbe essere qui la railgun eccola vediamo se riesco a fare qualcosina l'armatura intanto no però non l'ho uccisa mi ha dato solo l'uccisione bella che culo che hai dai che culo ma dai ok dove sei dove sei dove siete no dai me l'ha rubato una frazione in secondo e niente no no non ce la faccio non ce la faccio con la railgun qui eh bravo bravissimo non voglio vedere in che posizione sono non lo voglio sapere perché voglio giocare tranquillo se no mi viene l'ansia dai 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 quanta vita devi avere ma dai qua vedi non può durare un quarto d'ora la sparatoria dai vabbè che poi magari e questo è durato un secondo dai 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 facciamo era è pieno di gente non sto colpendo nessuno dai dammi il quad ho sentito che spawna fra un quarto d'ora fra 15 secondi c'è quando mi prende il panico il panico che non riesco più a colpire nessuno mannaggia la puttana guarda e quindi c'era in quel periodo dicevo scusatemi dicevo in quel periodo c'era l'144 e tutti quei numeri che stai attento che ti ciucciano i soldi dalla bolletta prima era così ti ciucciavano i soldi dalla bolletta muori 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 e ridammi questo che non te lo meriti e quindi c'era questa maledetta bolletta che veniva riempita di numeri di telefono sessuali nonostante tu abbia soltanto fatto una partita a quel che era più o meno così t'ho preso dai hitmarker nel 2017 con la railgun magari no magari no dove sei dove sono spariti tutti qua e via dietro di me dai dai che si recupera ma dai hitmarker ma dai hitmarker puttana come adesso muoio perché guarda dove son finito che tristezza che tristezza aiuto aiuto no 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 dai 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 state tranquilli state state tranquilli datemi un'arma decente tra l'altro si inizia con la la possibilità di scegliere l'arma con cui inizi chi è questo ma perché da dietro ma perché c'è la possibilità di iniziare con un'arma che però è la versione depotenziata di un'arma che si trova nell'arena tipo vedi io inizio con questo mitrino che però è la versione depotenziata del mitrino che c'è di solito ok ok non mi freghi dammi l'armatura e la vita no no dai le munizioni finite lì no ti prego dai mi sento veramente un pezzo di merda mi sento che tristezza ok non so quanto ho registrato perché non mi son messo un timer Karim vediamo cosa sono arrivato primo no perché ho visto secondo neanche confitta oh terzo sono contento livello 4 voglio dire me la son cavicchiata vediamo il punteggio 20 no dai 22 22 fitta veramente stiamo facendo questa figura di merda e 28 il primo quindi diciamo che il il punteggio era lì lì non c'era nessuno troppo scarso nessuno troppo forte perché per ora ho fatto solo i team deathmatch e a volte c'è sempre una persona che rovina le partite sono tutti intorno alle decina di kill arriva quello che ne ha 46 e non sai come sia possibile e rovina l'intera partita comunque grazie mille per essere passati in questo video spero che vi abbia anche solo attirato un minimo quake champions perché devo dire che ha le potenzialità per far tornare in auge gli sparatutto arena ovviamente con un piccolo twist come i campioni da comprare grazie mille per essere passati ci vediamo ad un prossimo video